Credo sia un giorno di festa per tutta la Sicilia e non soltanto per noi siciliani perché la Chiesa riconosce Beato un magistrato che ha saputo nella sua pur breve ma intensa vita conciliare il valore del Vangelo col valore del Codice Penale, la parola di Cristo con la legge dell'uomo e proprio per averlo saputo conciliare ha pagato con la propria vita perché era e costituiva un esempio molto ma molto pericoloso per le organizzazioni criminali, per questo la mafia ha voluto eliminarlo. Io credo che debba essere indicato come modello di vita, paradigma per tutti i giovani con i quali abbiamo il dovere di costruire e stiamo costruendo una nuova Sicilia.